Beh, 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 eccoci trovati, come promesso, per parlare di Volevo fare la Rockstar, il nuovo disco di Carmen Consoli, abbiamo fatto l'unboxing, vi lascio qui il link per recuperarvelo, e cosa vuoi dire di un disco che si presenta già con questa copertina? Chi ha seguito l'unboxing, chi mi conosce, insomma, sa quanto io abbia amato questa copertina, per cui da qui partirei col dirvi che per 30 euro io avrei accettato anche un disco che una volta messo su avesse suonato solo del silenzio, perché questa copertina vale veramente già solo tutti i soldi spesi da sola. Ma a parte questa mia passione e questa mia approvazione per questa copertina, va subito detto che Volevo fare la Rockstar è un disco, come avevo anche detto, di Cinema Samuele, di Samuele Bersani, qui la recensione, necessario. Forse più che un disco necessario è un disco di un'artista necessaria, perché? Perché Carmen Consoli è una di quelle artiste, una di quegli artisti che oggi è rimasta veramente con pochi colleghi a poter uscire dopo sei anni, con un disco in cui fondamentalmente parla di quello che vuole, nel modo in cui vuole, ed è già la seconda volta che lo fa, perché Volevo fare la Rockstar è un disco che arriva a sei anni di distanza dopo l'abitudine di tornare, un disco a sua volta venuto dopo cinque anni di completo silenzio. Ora, tra l'abitudine di tornare, Volevo fare la Rockstar, ci sono state tournée, c'è stato un disco live molto bello, tra l'altro in quartetto, lei, violoncello e violini, cioè anche lì, in quanti possono fare una tournée con questa formazione nel pop e non far scappare il pubblico dopo dieci minuti, insomma. Lì capisci proprio l'unicità e la grandezza di certi artisti, no? Quando si mettono a stravolgere il loro repertorio e lo fanno in questo modo, quando continuano ad essere amati nonostante cinque anni di silenzio totale, lì capisci l'esigenza che ha un panorama di quell'artista lì. E Carmen Consoli è proprio un artista di cui si ha ancora bisogno oggi, un artista che, raggiunta la maturità artistica che ha, che ha raggiunto, può permettersi di fare un disco ogni cinque sei anni, nel modo in cui vuole, parlando di quello che vuole. E di cosa si parla in questo disco? Beh, di amore. Ma non di amore adolescenziale, non dell'amore che si racconta nelle canzonette, nelle hit, non quell'amore che si racconta all'interno di qualcosa che deve vendere perché, insomma, deve rispecchiare i sentimenti un po' di tutti, no. Questo amore è l'amore più profondo che una persona possa sentire nella sua vita, nell'intervallo che va dall'abitudine di tornare fino ad oggi. Che è stato un intervallo lungo sei anni, quindi un intervallo all'interno del quale, soprattutto, lei ha visto crescere suo figlio. E questa cosa c'è tantissimo. Che tipo di amore c'è in questo disco? C'è l'amore per se stessi, l'amore per le proprie radici e l'amore per quello che sarà il futuro. È un disco dedicato prettamente al padre e al figlio. Il padre e il figlio sono due figure che tornano sempre. Praticamente in tutti i brani c'è un riferimento a loro e ogni volta sono dei riferimenti bellissimi. E' veramente delle frasi che sono state scritte con tutto il cuore e questa cosa si sente tantissimo. Ed è un disco anche, come dicevo prima, con tanto amore per se stessi. Perché ci sono anche degli sprazzi dell'adolescenza di Carmen Consoli, racchiusi in delle frasi, in delle immagini, che sono bellissime, che sono dolcissime. Ecco, le immagini in questo disco sono una delle cose che caratterizza l'essenza di questo prodotto. E ne caratterizza la bellezza, perché ciò che compone questo disco e lo rende così bello sono gli arrangiamenti. I pezzi, oltre ad essere dei bei pezzi, sono comunque anche arrangiati molto bene, ma soprattutto suonati benissimo. C'è questo suono rotondo, con tutti gli strumenti amalgamati, veramente bello. Un disco suonato veramente bene. Ma soprattutto ci sono dei testi molto importanti, per i motivi che abbiamo detto, e una semplicità che è propria di Carmen Consoli, caratterizzata anche dalla sua voce inconfondibile, dal suo stile, che può piacere o meno. Ma oggettivamente questo disco conferma quanto sia grande quest'artista e quanto sia anche unica. E allora andiamo un po' nel dettaglio, andiamo un po' a vedere che cosa sono queste immagini. Facciamo degli esempi. Il disco si apre con Sta succedendo, che è un brano che a me ha comunicato una sorta di esigenza non voluta di buttarsi nelle situazioni nuove, no? Un'esigenza che non sempre abbiamo il coraggio di ammettere a noi stessi più per paura dell'ignoto, per paura di ciò che succederebbe se ci buttassimo in qualcosa. E, per esempio, una delle immagini bellissime di questo brano è In questo brano particolarmente emerge questo Affidarsi a qualcos'altro o a qualcun altro e con questa premessa si apre un disco che continua poi a chiedersi, per esempio, che cosa sia l'amore con il brano dopo. L'Aquilone, per esempio, è un brano che mi ha tenuto diversi minuti incollato sul testo perché ci sono delle frasi che fanno sì che anche tu ti metti a riflettere con lei su certe situazioni, su certe definizioni. Per esempio, quando lei chiede che cos'è che chiami amore, il caotico sueggio di un aquilone, l'incoscienza, la passione. Ma una cosa che mi ha fatto pensare molto di questo brano è La verità è che un giorno o l'altro dovrai decidere la sorte di questo ricordo, imprimerlo o rottamarlo. Quindi qua ti mette di fronte al destino di un ricordo, no? Fare i conti con il passato. Prima o poi il passato tornerà a bussare alla porta e quindi tu dovrai farti trovare pronto e capire cosa fare di questo passato. Lo vuoi rimuovere o lo vuoi confermare? Lo vuoi amare o lo vuoi debellare o lo vuoi odiare, no? E quindi attraverso questo passato che ritorna ti dice Com'è facile ingannare il tempo. Un traguardo dopo l'altro. Ecco, io mi son chiesto qui, ma è davvero così facile ingannare il tempo? Capite, questo testo è molto bello perché mi ha fatto riflettere su diverse cose, ma questo brano è uno dei più densi del disco, no? Si continua poi con Una Domenica al Mare, il singolo che era uscito qualche settimana fa, il 3 settembre, che a me non aveva fatto impazzire, ammetto, ma che contestualizzato in questo disco assume già un'altra forma, assume un altro senso e l'ho apprezzato. Devo dire che l'ho apprezzato perché anche qui, leggendo il testo, si entra in un'atmosfera filosofica, un po', no? All'interno della quale il ritornello si chiude con la frase La Vita è una Domenica al Mare ed è qui che compaiono per la prima volta esplicitamente Il Padre e il Figlio. Da qui il disco comincia ad essere veramente un ringraziamento incredibile sia al figlio sia al padre e una riflessione su come vivere nel mondo di oggi con un figlio a cui insegnare dei valori e con un padre che si vorrebbe avere ancora tanto accanto. Si prosegue poi con Mago Magone che è una delle due canzoni più politiche del disco dove velatamente si fa riferimento a Matteo Salvini, almeno per quanto mi riguarda, ma è abbastanza chiaro che sia così. È un brano che cerca un po' di avvisare, no? Sulla potenza di questi personaggi che fanno leva sulle debolezze delle persone e che ogni volta per ogni nuovo dolore, per ogni nuova situazione in cui ci si può tuffare facendo leva sui sentimenti delle persone, ecco, questi personaggi abbiano un copione scritto per arraffarsi il consenso di quelle persone che appunto ci credono alle loro parole in maniera molto pericolosa. Le cose di sempre poi, e questa è una delle canzoni più belle di questo disco perché è una canzone attraverso la quale Carmen Consoli esprime la propria preoccupazione nello spiegare al figlio che cosa sono i valori, come dicevamo prima, e dice Come posso, figlio mio, insegnarti a rispettare le idee, le debolezze altrui, le piante e le zanzare in questa giungla inospitale in cui a dettare legge è il predatore? Come faccio, amore mio, a parlarti di valore, del giusto peso che via via si associa alle cose in questa enorme confusione in cui l'evidenza è un'opinione smentita dalle parole? E così si apre questo brano. Per cui, come fare a trasmettere dei valori a una nuova creatura, no, che si affaccia alla vita, al mondo, a questa società? E allora lei trova questa soluzione e dice Chiudi gli occhi, amore mio, nulla può succedere. Vieni qui tra le mie braccia e raccontami di diavoli, fantasmi e formiche giganti. Questo buio amore mio nulla può nascondere. Quindi, di nuovo, l'amore, in questo caso di una madre nei confronti del figlio, è la soluzione per insegnare al figlio i valori che si ha paura di non riuscire ad insegnare se lo si lasciasse crescere vedendo soltanto quello che c'è là fuori. Un significato bellissimo di questo brano che anticipa forse quello che a me non è piaciuto tanto qualcosa di me che non ti aspetti. Ecco, questo brano devo dire che non mi ha lasciato tantissimo. Sono molto curioso invece di sapere che cosa ne pensiate voi. È un brano che, insomma, invita un po' a riascoltarci, a ripresentarci a noi stessi per riscoprire qualcosa che forse abbiamo perso, che non ci contraddistingue più, quella bellezza che non ci appartiene più perché è divorata da qualcosa di meno empatico. Ecco, la richiesta di empatia, la filosofia per cui l'empatia nella vita conti quasi più di ogni altra cosa insieme all'amore, qui traspare veramente tanto. E dopo qualcosa di me che non ti aspetti arriva a Armonie Numeriche, che è di nuovo. Una dedica bellissima a suo padre, molto probabilmente racconta gli ultimi giorni di suo padre. È un brano che, come aveva fatto con Mandaci una cartolina, evoca questa figura fondamentale nella vita di Carmen Consoli in un testo che è estruggente, un testo che è veramente bellissimo, in cui ci si chiede che cosa un figlio avrebbe potuto fare di più per stare vicino a un genitore che sta soffrendo oppure anche nella vita, no? Che cosa avrebbe potuto fare di più per renderlo orgoglioso ed esplicitamente viene chiesto chissà se saresti orgoglioso di me ed avrei voluto chiederti se capivi che ridevo per non piangere. Tra un po' hai tempo di ciliegie e ti illudevo sapendo che non le avresti mai più assaggiate. Capite? La potenza di certe immagini, di certe frasi contenute in un disco che ha davvero in sé tutto il cuore di quest'artista. È una cosa che a me ha colpito veramente molto. Un altro brano che secondo me è un'immagine molto simpatica, molto ironica un po' anche, no? Imparare dagli alberi a camminare, che è un po' un testo, almeno a me è arrivato questo, in cui ci si immagina che ci siano gli alieni, no? Che incombono sulla nostra esistenza. E di fronte a questa ipotetica conquista aliena, l'autrice si dice ma non è che niente niente un'invasione aliena potrebbe essere la soluzione, no? Agli uomini e alla smania ardimentosa di potere, no? Non è che niente niente l'invasione aliena potrebbe essere una salvezza anziché una minaccia. E di nuovo qui torna poi a focalizzarsi sull'immagine del figlio che in questo caso dorme e dice Mentre dormi a tratti sorridi e fai gesti con le mani ed apri gli occhi Perché svegliarti? È chiaro che sogni E mentre dormi ti agiti ed io scanso i calci, tu stai correndo E sono in tanti rimasti lì ad aspettarti Per cui in questo brano nello specifico, sì, fuori lì c'è quel mondo in cui anche lei forse ha perso un po' di fiducia e che forse per essere recuperato dovrebbe essere riconquistato dagli alieni Però poi vede suo figlio e si dice Ma sì, alla fine questo è il mio mondo, questo è ciò che mi importa davvero, no? Chiude questo brano dicendo Mentre dormi ti agiti ed io scanso i calci Li senti i cani, sono arrivati Ma quali alieni, sono gatti randaggi Quindi alla fine nessuna conquista Ma appunto è molto più importante concentrarsi su quel mondo, no? Sul mondo che si ha vicino, sul figlio, sui propri affetti Sull'essere noi portatori di qualcosa che vorremmo fosse il mondo Arriviamo quindi alla seconda canzone politica all'interno di questo brano Che si chiama L'uomo nero In cui si delinea di nuovo quanto nella società di oggi Sia preponderante e sia più efficace Questa figura dell'uomo forte In grado di manipolare masse In grado di instillare nella popolazione Dei concetti potenzialmente pericolosi E quindi di farsi seguire Quindi anche qui c'è un bel riferimento A tutte quelle figure nella politica Ma anche no, anche non necessariamente nella politica Che attraverso il proprio carisma Che pericolosamente può sfociare in un veicolo Per trasmettere dei messaggi pericolosi Facendosi seguire Possa in realtà poi diventare qualcosa di preoccupante Ed arriviamo poi infine In questa rapidissima discesa All'interno di quella che è la scaletta Di un disco che vi consiglio di ascoltare Per rendervi meglio conto di quello di cui io stia parlando All'ultimo brano che dà il titolo al disco Ed è Volevo fare la Rockstar Volevo fare la Rockstar È un brano che mi ha colpito Perché è un testo Ha un testo che non è molto metrico Mi spiego meglio Di solito una canzone Si caratterizza per avere un testo Che sta all'interno delle cellule ritmiche Dettate dalla melodia Oppure che il testo dà alla melodia In questo caso no In questo caso il testo di Volevo fare la Rockstar È proprio cantato come sarebbe recitato Nel senso è proprio un testo che si vede Che è scritto come se si scrivesse un diario E mi ha stupito tantissimo questa cosa Perché comunque è molto difficile farlo È molto difficile rendere una canzone Che abbia una metrica così difficile da incasellare Nel ritmo di una linea no Però funziona Però è veramente carino Veramente bello E qui è proprio lo spazio Che Carmen si prende per se stessa Per raccontare quello che è stata la sua vita da bambina no Il suo desiderio di voler fare la Rockstar Di come un tavolo della cucina Potesse diventare il palco perfetto Per manifestare questo desiderio Di come negli anni della sua infanzia La mafia uccidesse per strada le persone E suo padre gli dicesse che in realtà stavano dormendo no E allora lei che si chiede Ma come può saltare in mente A quello di dormire in mezzo al traffico e alla gente E in tutto questo In queste immagini In questo contesto Il padre che a sua detta L'ha sempre incoraggiata A concentrarsi sulle cose belle A concentrarsi sulla sua musica Sul suo desiderio di fare musica Ecco su queste premesse Tra queste immagini Lei racconta in questo brano di come Si sia potuta concentrare sul suo sogno E di come poi l'abbia realizzato Perché di fatto siamo qui a parlare di lei Per cui volevo fare la Rockstar E un disco che secondo me è necessario Come ho detto all'inizio Perché è il racconto spassionato E vero di un artista Che mette la sua vita Letteralmente la sua vita Nella sua arte In ciò che fa E qui ci sarebbe un bel tema Su cui riflettere Ovvero quanti artisti Possono effettivamente Permettersi di fare questa cosa No? Carmen Consoli Come abbiamo detto prima È un artista Che ormai ha raggiunto La sua maturità Cioè è arrivata E va avanti Perché comunque Qualsiasi cosa faccia Ha un pubblico che la segue E quindi può permettersi Di uscire ogni sei anni Di prendersi il suo tempo Per fare tutto quello che vuole Non perdendo di fatto In affetto Da parte del pubblico E incredibilità Da parte Della casa discografica Ecco Quante persone Possono fare lo stesso? Poche Secondo me Molto poche Perché comunque Gli ultimi A poter fare Questo percorso Sono i vari Samuele Bersani Nicolo Fabi In Italia almeno Tutta quella Schiera di artisti Venuti fuori Negli anni 90 Che di fatto Sono stata L'ultima generazione A beneficiare Dei Per esempio Dei talent scout Della gavetta vera Quando si poteva fare Ancora in un certo modo Insomma Questi sono Poi comunque Gli artisti Che continuano A resistere E a restare Nel tempo Anche dopo sei anni Ecco Oggi Questa cosa qui Purtroppo Non c'è più E è una cosa Su cui fermarci A riflettere Perché Tra sei anni Che cosa ci sarà? I giovani Che stanno uscendo Adesso Ci saranno ancora Tra sei anni E se sì Avranno ancora Lo stesso impatto Che hanno Oggi Quando escono Con un singolo Tre mesi dopo Aver rilasciato Quello precedente Secondo me No Proprio perché Nel far uscire Gli artisti Giovani Di oggi C'è una Precostruzione Non impostata Da loro Che Li rende Potenzialmente Inoffensivi E che quindi Potrebbe Adattarsi A chiunque Non c'è più La personalità Che hanno Queste persone Qui Nei giovani Negli artisti Giovani Non perché Gli artisti Giovani Non ne abbiano Una Ma semplicemente Perché nel mercato Di oggi Queste operazioni Qui Non sono più Accettabili Da parte Dei giovani Perché Non lo so Non lo so Perché poi Escono queste cose Qui E le persone Rispondono Il pubblico Non è stupido Le persone Recepiscono Quando qualcosa È vero Il più delle volte Sembra che Le case discografiche Non vogliono Crederlo Oppure Non vogliono Puntarci E questa è una cosa Che mi fa Molto riflettere E sulla quale Vorrei che anche voi Vi esponeste E mi facciate sapere Con un commento Qua sotto Che cosa ne pensate Questo grosso modo Era ciò che Avevo in mente Di dirvi Su questo disco Volevo fare La Rockstar Il nuovo disco Di Carmen Consoli Che vi consiglio Assolutamente Sulla quale vi chiedo Anche un parere Grazie mille Per esserci stati E se siete arrivati Fino qui Alla prossima